Come sai, l'Italia è uno dei sei state membri che ha contribuito prima alla fondazione dell'Unione Europea. Lei oggi rappresenta Israele in Italia, paese quest'ultimo tra i fondatori dell'Unione Europea. Ritiene auspicabile che l'Europa compia ulteriori passi in direzione di una politica estera veramente comune e di un'autonoma capacità operativa negli scenari di crisi? Credo che nell'ultimo paio di anni abbiamo visto che l'Europa sta passando attraverso un processo di radicalizzazione molto forte, collegato alla crisi economica globale. C'è una certa instabilità che sovrasta l'Europa. La combinazione tra la brutta situazione economica e la difficile situazione della sicurezza ha creato una certa pressione. Sicuramente gli Stati membri, se intendono mantenere l'idea d'Europa, hanno bisogno di creare una struttura, la quale dovrebbe aiutare ad affrontare questi giorni. Ma non è semplice. Penso che l'Europa oggi debba essere pronta a momenti difficili. Il populismo sta crescendo. I leader dei partiti populisti stanno trovando spazio. È una cosa che sta succedendo anche da noi in Israele. Penso che sia qualcosa che riguarda tutti i moderati d'Europa. E la sfida della società è di essere forte, anche quando la situazione non è così facile, come oggi. Vorrei chiederle il livello di attrattività del Paese e cosa possiamo fare per aumentare l'interesse degli investitori per l'Italia. Posso parlare da una prospettiva israeliana. Non conosco abbastanza per offrire una prospettiva più ampia. Ma potrei dire che, sfortunatamente, gli imprenditori israeliani non mettono l'Italia al primo posto. Questo è sicuramente parte della mia mission. Cercare di convincerli. Far cambiare loro idea. Perché l'Italia è veramente un bel paese dove lavorare insieme. Sfortunatamente, la maggior parte di loro va negli Stati Uniti. In molti casi nel Regno Unito. Oppure in Cina o in India. Quindi sono questi i principali motori dell'industria tecnologica israeliana degli ultimi anni. Penso che in Italia ci sia una forte capacità industriale. Una forte capacità accademica. Quello che dobbiamo fare è cambiare la percezione che alcuni degli investitori israeliani hanno nei confronti dell'Italia. Come fare? Semplicemente mettendo le persone insieme. Perché quando mettiamo assieme italiani e israeliani, subito troviamo un terreno comune per condividere, parlare e comunicare. È molto facile. Io penso che se ci sono due imprenditori, giovani o adulti, troveranno il modo per collaborare, che siano italiani, israeliani o canadesi. Sì, è ancora io e ancora la Europa. Quindi, in tutto il mondo, viviamo in giorni molto difficili. Quanto pesa sugli attori economici e sugli scambi commerciali il clima di insicurezza che si sta vivendo nel mondo a causa del fenomeno del terrorismo? Vorrei affrontare la risposta in due parti. Israele, sfortunatamente, ha molte esperienze in questo campo. Posso dire che Israele lo sta vivendo dai primi giorni della sua esistenza. Ne parlerò dopo, durante la mia presentazione. Noi dobbiamo creare un ecosistema in cui possano convivere diverse realtà. Non è ovvio, né è qualcosa che ci rende felici, ma questa è la situazione attuale. Sicuramente c'è un impatto diretto sull'ambito economico. Penso che l'economia vada oltre i soldi e gli investimenti, oltre alla produzione. E riguardi principalmente lo spirito della popolazione. Quando le persone non sono felici, c'è un impatto immediato sulla situazione economica. Vorrei dire che l'Europa, in questo caso, e l'Italia all'interno di essa, devono fare il possibile per la sicurezza, che è in questi giorni una sfida comune. Penso che l'Italia debba andare molto fiera di avere al suo interno una situazione di forte sicurezza. Penso che sia un forte messaggio per chi vorrebbe danneggiare l'Italia. Oggi la sicurezza e la tutela da aggressioni esterne delle infrastrutture e degli apparati produttivi e finanziari di un paese, passa attraverso la difesa della rete web. Israele è un paese leader nel settore. Quindi quali potrebbero essere le opportunità che Israele avrebbe da offrire per le aziende e lo Stato italiano? Posso dire che Israele ha creato un ecosistema unico, di cybersicurezza e oltre. Penso che la sfida, in questi giorni, sia in campo finanziario, come ha detto lei, ma anche in quello della produzione, e per i semplici cittadini di vivere una vita sicura. Questa è la sfida. Io credo che l'opportunità c'è e le cose stanno cambiando molto velocemente qui in Italia, così come in altre parti del mondo, cosa che sicuramente attrae gli investitori, che attrae anche le persone che considerano l'Italia un paese sicuro, dove investire denaro, dove produrre e dove collaborare. Comunque è una grande sfida. Inoltre, ovviamente, è una grande sfida. La mia questione riguarda il Presidente Donald Trump, e mantenendo un'occhio sulle prime azioni come Presidente degli Stati Uniti. Parlando dell'elezione del Presidente Donald Trump e dei suoi primi atti di governo, a suo giudizio, essi rappresentano una svolta effettiva nel campo delle relazioni internazionali. Come possono questi incidere nella situazione medio orientale? È molto facile, per me, rispondere perché il Medio Oriente è un posto dove gli Stati Uniti non sono stati abbastanza coinvolti negli ultimi anni. L'amministrazione USA sta prendendo delle decisioni che oggi stanno dando degli effetti sull'area, inclusa la situazione in Siria, in Iraq e anche oltre. Penso che l'amministrazione Trump abbia mostrato come agire in maniera molto veloce e decisa dopo l'uso delle armi chimiche da parte del regime di Assad. E questa cosa non dovrà succedere mai più. Questo è stato un segnale molto deciso che ha dato Donald Trump ad Assad. E credo che qualcosa stia cambiando. È un po' prematuro dire come andranno le cose in quella regione, ma sicuramente tutti i segnali mostrano che lui non seguirà i passi dei suoi predecessori. Dal punto di vista economico, Donald Trump sta cercando di rinforzare e creare un'America più forte. Sta utilizzando dei metodi di cui non conosciamo ancora gli effetti. In alcune aree sta adottando misure protezionistiche, ma non sono gli strumenti per spingere l'economia in avanti. Sono certo che l'America non farà dei passi drastici chiudendo i suoi confini al libero commercio. Ma penso che alcuni passi, come ad esempio la posizione assunta nei confronti del NAFTA, siano un segnale indicativo per i paesi dell'area. Ma vediamo cosa succede. Aspettiamo un poco e vedremo. Perché penso che solo 100 giorni fa, quando è stato eletto, ha incontrato il presidente Abbas. Due settimane fa ha incontrato il nostro Benjamin Netanyahu e presto dovrebbe visitare Israele. Quindi penso che per il processo di pace si siano fatti dei passi avanti. Mentre per la questione economica aspettiamo ancora. Sarò felice di rispondere presto alla domanda sull'economia. Aspettiamo un po' di rispondere alla domanda sull'economica. Aspettiamo un po' di tempo. E io sarei felice di rispondere alla vostra domanda sull'economia. Grazie.